Continua la crisi dell'aeroporto di Firenze per quanto riguarda i passeggeri in transito. Nel 2012 si è superato di poco il 1.840.000 persone e questo significa un meno 2,8% rispetto al 2011. E nemmeno se si guarda all'inizio del 2013, a Peretola si può far festa. C'è crisi, si sente, diciamo che i primi mesi di gennaio e febbraio sono stati pesanti, però abbiamo fiducia, i numeri, le cifre vanno migliorando. I dati di febbraio parlano di un meno 6,4% nel traffico passeggeri rispetto allo scorso anno, ma a Peretola si può guardare al futuro con moderato ottimismo. Al di là degli sviluppi legati all'annosa costruzione della nuova pista, c'è infatti da registrare la scelta importante della spagnola Vueling di trasformare lo scalo fiorentino nella sua seconda base in Europa, con l'inaugurazione di quattro nuove rotte. Apriamo Hamburgo, Berlino, Copenhagen e Londra Heathrow, che si aggiungono alle tre rotte dell'anno scorso, quindi siamo molto soddisfatti del rapporto con l'aeroporto di Firenze, con la città di Firenze e sicuramente Vueling adesso è una realtà importante a Firenze. Una realtà importante per Peretola, che riesce così a sostituire Meridiana, che aveva abbandonato lo scalo fiorentino a fine ottobre.